Ciao a tutti partendo dal presupposto che voi Se avete capito che cos'è una relazione tossica, con chi avviene una relazione tossica e come riconoscere una relazione tossica ho deciso che farò anche altri moltissimi video che riguardano lo stesso argomento perché tanto più io ve li ripeto e più voi avete la possibilità di riconoscere queste situazioni. Detto questo, ammesso e concesso che possiate aver capito cosa succede in una relazione tossica, il problema è come faccio ad uscirne? Ecco, bella domanda, allora per uscire da una relazione tossica bisogna innanzitutto avere una strategia, da una relazione tossica con un narcisista o con un psicopatico o con un borderline che sono tutti disturbi di personalità che vanno curati da psicoterapeuti e che vanno curati purtroppo per lungo periodo Per cui anche se dicono di andare dallo psicoterapeuta probabilmente dispiaciuti dal fatto che voi li stiate lasciando, e lì è tutto dire, cercheranno di risolverla in 3-4 sedute Quando in realtà le sedute sono estremamente più lunghe, spesso non sono patologie da cui si esce completamente. Detto questo, come faccio a togliermi dalle scatole un narcisista? È una delle cose più difficili perché i narcisisti cosa fanno? Tornano anche a tempi indeterminati, nel senso che possono tornare dopo un giorno, possono tornare dopo qualche ora, possono tornare dopo qualche mese, possono tornare dopo qualche settimana, possono tornare dopo qualche anno E possono tornare con una qualsiasi scusa, quindi possono tornare perché si sono dimenticati di darvi un paio di calzini, così come possono essersi dimenticati di dirvi quella cosa che non vi hanno detto giorni prima E quindi con una qualsiasi scusa i narcisisti tendono a tornare. Cosa dobbiamo fare per non farli tornare? Una delle strategie che più viene utilizzata è il cosiddetto no contact. Cos'è il no contact? Avete presente il full contact? Quando ci si incontra tutto completamente perché ha a che fare con lo sport di contatto? Benissimo, il no contact è il contrario, quindi vuol dire che non dovete avere alcun tipo di contatto con queste persone Esattamente come quando vi state disintossicando da una droga, dovete entrare in astinenza, smettere di utilizzare quella droga, percepire tutte le ansie e le angosce che vi darà l'astinenza Probabilmente è meglio se vi fate aiutare da uno psicoterapeuta o un amico anche o un'amica che vi stia vicino in quel periodo Perché il no contact da narcisista, da post relazione con narcisista o psicopatico o quello che abbiamo detto prima È una cosa abbastanza lunga, quindi a livello strategico per cercare di non soffrire il più possibile Bisogna riuscire a sviluppare delle strategie tipo cercare delle relazioni, che non vuol dire relazioni facendo le corna Vuol dire delle relazioni sociali che vi permettano di stare bene, ritrovare un po' voi stesse, ritrovare i vostri interessi Che vi abbiamo già detto, ritrovare un po' quello che vi faceva stare bene prima di conoscerlo Mi ricordo una frase in cui diceva, io mi ricordo quanto stavo bene Ci sono alcune persone che ti fanno capire quanto stavi bene prima di conoscerle Ecco, esattamente così, dovete cominciare a ricordare chi siete, che cose eravate e per quale motivo eravate così felici Prima di conoscere queste persone Ora, riproponete alla vostra mente quello che facevate Se vi piaceva dipingere, dipingete Se vi piaceva leggere, leggete Se vi piaceva andare a cavallo, ritornate a cavallo Se vi piaceva andare in discoteca, andate in discoteca Fate un po' quel cacchio che vi pare, basta che facciate le cose che vi piacciono Che vi rendano uniche, che vi rendano donne, che vi rendano voi stesse Che vi rendano quello che non vi hanno più reso loro E quindi qualcosa che faccia rinascere in voi come una fenice, dalle ceneri Che faccia rinascere in voi la personalità che avete perso in questo periodo Il no contact a cosa serve? Serve alla disintossicazione Per il non contact quanto tempo serve? Dovreste cercare di non sentirlo, di non averci niente a che fare E qua cominciano i problemi Di non averci niente a che fare per circa 4 settimane Dopo le 4 settimane possiamo dire che la dipendenza Quanto meno biochimica slash psicologica dovrebbe cominciare ad attenuarsi Purtroppo questi non vi lasciano stare Il messaggino arriva, il messaggino continua ad arrivare E voi siete tentati di rispondere Cercheranno delle scuse per cercare di parlare con voi Non parliamo di quello che potrebbero fare sui social Perché sui social ovviamente e prima siete amici e poi non siete amici E poi li bloccate e poi non vi li bloccate E poi li bloccate su whatsapp e poi li sbloccate un'altra volta Però se li bloccate su whatsapp allora vi scrivono per esempio nei messaggi normali Nei messaggi normali li bloccate e allora vi scrivono tramite mail E quindi il no contact non è assolutamente facile Cosa dobbiamo fare? Cercate di bloccarli il più possibile Detto questo il no contact ricordatevi è una condizione mentale vostra È qualcosa che ha a che fare con qualcosa che capite Che consapevolmente pensate possa essere un no contact Sentirli non vuol dire che li state contattando Sentirli vuol dire che state semplicemente elaborando un lutto difficile Che ha a che fare con una storia difficile E con una strategia in cui pian piano ve ne state andando Quindi il no contact deve smettere di essere considerato semplicemente un compito di distacco totale È importante che venga considerato un distacco psicologico Quindi se non rispondete o se avete voglia di rispondere Ricordatevi non è una gara Quindi se sentite il bisogno estremo in quel momento di rispondere Rispondete non succede niente Non succede che cambia la vita per una risposta Succede che in quel momento siete troppo tese State piangendo Vi viene da rispondere Rispondete e il giorno dopo sarà meglio Quindi abbiate la pazienza di elaborare il lutto della separazione Negli alti e bassi del lutto La rabbia, la tristezza, la negazione C'è un video che ho fatto che riguarda appunto l'elaborazione del lutto C'è la rabbia e alla fine c'è la rassegnazione Che spero per voi non sia rassegnazione Che sia accettazione del fatto che con questa persona le cose non andavano Le cose non potevano andare E una volta che state meglio Semplicemente cominciate a vivere Perché avete tutto il diritto di vivere Di ricordarvi di chi eravate Di continuare a vivere Di vivere le vostre storie Di vivere le vostre amicizie Di fare quello che vi piace fare E il no contact a quel punto non sarà più solo un compito Ma sarà semplicemente un elemento di strategia Per tenere lontano una persona che solo vi ha fatto del male Io vi saluto Mi raccomando iscrivetevi al mio canale Emanuela Papa Lo dico perché ho bisogno di iscritti E perché più mi iscrivete e più io faccio video Quindi vi mando un bacione Se avete bisogno Hashtag Segui la Papa Segui la Papa Chiocciola gmail.com Per scrivermi Vi aspetto in tanti Un bacione grande E al più presto Ciao 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 Grazie a tutti.